Options XAur. Facile da usare anche per i trader inesperti. Supporto clienti di qualità. Garantiamo una risposta entro 30 minuti via email, telefono, Skype o live chat. 24 ore su 24, 5 giorni su 7, da mezzanotte del lunedì alla mezzanotte del venerdì. Il nostro motto è onestà, integrità e rapidità. Siamo qui per aiutarti. Corsi formativi gratuiti e sedute personali sul trading binario. E-book di facile compressione sia per i trader principianti sia per i trader esperti. Sedute di trading online tramite live chat, Skype o telefono. Sviluppo di strategie personalizzate per ogni trader. Il nostro obiettivo non è quello di fare trading con te, ma di renderti un trader esperto. Le migliori condizioni di trading sono garantite. Più di 100 asset, da cui le principali coppie valutarie, azioni, materie prime ed indici. Scadenze da 60 secondi a 30 giorni. I più elevati rendimenti. I più accurati provider di segnali sul mercato. I trader scelgono? Options XO. Inizia a fare trading ora.